Carissimi tutti, Namaskar. Continuiamo sempre con il concetto del rapporto. L'unico criterio di un vero rapporto genuino con una persona, io penso, è la vostra genuinità, la vostra disponibilità, il vostro desiderio di sentire, di coinvolgervi, di rivelare voi stessi e tutto ciò che veramente vi sta a cuore. Quante persone conoscete a cui potete confidare le vostre pene, i vostri bisogni, le vostre preoccupazioni, i vostri desideri? Mi sa un po' poche. Nella misura in cui vi permettete di diventare consapevoli di questi sentimenti potete trovare più amici con cui condividerli e con cui creare un rapporto significativo. Realmente se fuggite da voi stessi, come potete desiderare, di comunicare agli altri ciò che volete tenere nascosto a voi stessi. In questo modo non potete che vivere isolati e insoddisfatti. È necessario impegnarsi tanto nel lavoro. E questo è un lavoro di autotrasformazione perché solo grazie ad esso si può riuscire ad ammettere la verità a se stessi e questo è il prerequisito per cominciare ad avere rapporti autentici ed una vita completa. Perfino il rapporto con gli altri aspetti della vita, quali l'arte, la natura, le idee, prende forme nuove, più vive, in quanto questi aspetti non sono più usati per evitare sentimenti dolorosi. Ricordate che a volte i veri rapporti e la vera comunicazione vengono confusi con la tendenza infantile a dire tutto a tutti. È capitato anche a me. Quindi in realtà dire tutto a tutti vuol dire celare la tendenza a chiudervi in voi stessi ad un livello più profondo e sottile. Tendenza che prima o poi vi fornisce la prova che non vale la pena coinvolgersi. Quando avrete raggiunto una vera comprensione di voi stessi invece e quindi la liberazione da quello che avete costruito non vi saranno forzature nei vostri rapporti e nel modo in cui vi rivelerete in essi. Sceglierete intuitivamente le persone, le occasioni e le maniere giuste. Gli occasionali errori di giudizio non vi turberanno e non vi spingeranno a nascondervi di nuovo. Si tratta di un processo di crescita organica, sapete, in cui la libertà giungerà solo gradualmente e solo dopo che vi sarete incamminati sul sentiero dell'autoconoscenza. Molti di voi, carissimi, non hanno ancora un chiaro concetto di cosa significhi realmente amare ed avere un rapporto veramente profondo e anche io questo l'ho passato. L'essere socievoli verso gli altri non è per voi un processo naturale, a volte spontaneo, ma è artificiale e forzato. Quindi perseverando sul sentiero della consapevolezza si svilupperà in voi una nuova disponibilità verso gli altri. Se non riuscite ad ammettere di essere umani e di aver bisogno di aiuto per rilevare, per rivelare la vostra disponibilità, non potete creare nessun vero rapporto e in questo modo la vostra vita rimane con delle lacune, lasciate munire. Con la mente e con il cuore, Namaskar.